La bomba è scoppiata circa un anno dopo, mentre in Italia continuava a promettere ai clienti che nei suoi ambulatori avrebbero trovato il paradiso delle cure dentali a prezzi scontati, in Spagna Dentix stava precipitando in un inferno contabile di perdite e debiti. Centinaia cittadini truffati, anziani o bambini lasciati spesso senza denti o apparecchi, alcuni dei quali si sono indebitati per anni per lavori fatti male o che mai saranno fatti, e soprattutto che rischiano di non rivedere più i loro soldi e rimetterci in salute. Queste non sono aziende che provengono dal settore di cliniche dentistiche, ma sono multinazionali, sono fondi di investimento, che scelgono di investire ovviamente nelle cure mediche perché ovviamente sono redditizie a partire da quelle ovviamente tontoiatiche. Poi si affidano sul territorio a giovani, giovani professionisti, che ovviamente anche con contratti molto precari, hanno un costo molto più basso di un dentista tradizionale e pertanto riescono anche a vendere bene il prodotto. Qui assistiamo a una situazione anche molto particolare che si chiama overtreatment, quindi quello di offrire molto di più di quello che hai bisogno per incrementare il finanziamento stesso. Non si contano più le denunce raccolte dalle associazioni dei consumatori che hanno messo in evidenza gli effetti nefasti della carenza di un adeguato sistema pubblico di cure dentali. Il problema è che in Italia noi abbiamo una bassissima situazione per cui il pubblico offre servizi di qualità in tempi veloci e pertanto, ahimè, molte famiglie si devono rivolgere al privato. Ambulatori chiusi, centralini sempre occupati da giorni, una situazione che è l'esatta fotocopia di un fallimento già scritto. Ad aprile Angel Lorenzo Muriel, il fondatore, aveva fatto istanza di pre-fallimento, ma la crisi del network di cliniche dentali, oltre 300 ambulatori in Europa, di cui 57 in Italia, 5 in Toscana fra Prato, Empoli, Lucca, Massa e Viareggio, era nell'aria e nelle carte già da tempo. Chiederemo ovviamente a tutti quegli utenti che si rivolgeranno alla fede dei consumatori di portarci il contratto, di portarci ovviamente la cartella clinica, che non è detto che sia disponibile all'utente, e da questo punto di vista noi chiederemo la messa in mora e scriveremo alla finanziaria per interrompere il finanziamento stesso. Dall'altra parte abbiamo scritto al ministro Speranza perché si riveda tutta la normativa del settore, cioè vale a dire basta con le multinazionali con i fondi di investimento che fanno business veramente sui denti e sulla bocca degli altri, ma bensì bisogna dare più valore a quelle che sono le cliniche dentistiche.